Grana padano. Per essere sicuri che si tratta di vero grana padano è necessario riconoscere la marchiatura impressa intorno a tutta la forma. Fate attenzione se acquistate il formaggio grattugiato, anonimo, nelle vaschette da gastronomia. Se i grani di mollica sono allungati o polverosi si tratta soprattutto di croste grattugiate, non di formaggio. Se invece sono regolari e simili a piccoli fiocchi di neve farinosa, si tratta appunto della squisita mollica di Grana padano.